Allora, di questo gioco stranamente mi ricordo già meglio rispetto a tanti altri che sto facendo tutto contemporaneamente Eravamo appena arrivati alla base di quelli che stanno dalla mia parte, esatto, siamo esattamente qua Vediamo se mi ricordo tutti i comandi, tanto più o meno i comandi di Bioshock, quindi perfetto, ci siamo, il volume siamo messi bene, sì Ah, giusto Deve succedere qualcosa? Una visita all'esterno, sì, quello che sto facendo Non riesco a capire se non hanno messo nulla perché tanto non ci passo Però si vedrebbe Non ci sono scale qua, quindi niente Ma si è fumato qualcosa? Sta sognando I comandi ci sono ma solo per di qua ed è tutto vuoto Il mistero si infittisce Ma quello è un altro La vita è cambiata, vero? L'imperatrice è morta, sua figlia Emily è nascosta chissà dove in città e tu giocherai un ruolo fondamentale ora Per questo ti ho scelto e ti ho trascinato nell'oblio Gentilissimo Io sono l'esterno, questo è il mio simbolo Ha tatuato diretto Forza che gli uomini fanno magia E ora Queste forze saranno al tuo servizio Controlla questo potere Bravo Danu, che al te non sfugge niente Vieni da me È così invitante Come possiamo dirgli di no? Per teleportarti Va bene In avanti Rapido invisibile Puoi anche usare questa mossa per sfrustarti verso l'alto a una distanza ridotta Non è una spazienza puoi traslare in avanti e rampicati su di essa Lì mi premuto il livello per stabilire con precisione la sua destinazione a sfara indica Va bene Ah Nuova meccanica Ah l'ho già spiegato Se non ci sono sviluppatori non si fanno le live L'ho già detto Nel gruppo Me lo ricordo benissimo Più volte Col potere Immaginavo un finale del genere in realtà Vediamo un po' Ah giusto non puoi farlo in velocità perché deve puntare il punto Ok Quindi lui comunque si teletrasporta Non esattamente sul punto Ma forse leggermente più indietro per quello cade Dica dica Non puoi salvarla Ah grazie Mi metterò L1 per accedere alla selezione E scegliamo la traslazione incredibile Bello sto platform Dentro dove metti i piedi Eccomi E mo chi sono questi? Qui cosa abbiamo? Ah Il meglio spirituale di Piero Veramente si chiama così Se ti ricordi l'ho portato a Tekken 5 Tekken 7 Non è il momento Ho un sacco di giochi da provare E cadiamo male Ho puntato Tutto questo perché lui spavano leggermente più indietro Dai eh Lì Perfetto Opla Di stupo 9 Ho capito Ma come salta questo qua? Proprio Non va neanche un po' in avanti Ma da qui Così Salve Come tutto a posto? Hey là Poco prima del Della morte Usare le traslazioni avampicati Ma la soltella spogenza è nata giusto Giusto Ma poi in combattimento Deve essere fortissima sta tecnica Opla Troppo forte Non la piglia Non la vuole piglia B Soffiamo? Cos'è il mio compleanno? Che soffiamo le candele Nei giorni che verranno Ti attendono prove ardue Corvo E beh Saranno facili Uno si annoia Cerca le antiche rune Con il mio simbolo Nei luoghi deserti del tuo mondo Questo è il doppiatore Di Shay Colmack Di Squidward Ti garantiranno poteri preclusi Agli altri uomini Per trovare dove sono le rune Ti do questo È il cuore di un essere vivente Forgiato da mie mani Dopo che te sei lavate spero Questo cuore ti rivelerà molti segreti E ti guiderà verso le mie rune Ovunque esse si trovino Pensa te Ora ascoltalo E trova un'altra runa Da godo Equipaggio del cuore Nella mano sinistra Per trovare amuletti d'osso E una anche tra i rossi muri Il cuore batte e si illumina Quando si difronta un amuletto d'osso Una o una Aumentando il battito Quando ti avvicini Il cuore rivela sui segreti E se premi le T Mentre serve una persona lunga Un minuto Questo luogo è la fine di ogni cosa È l'inizio Secondi Oppure secoli Qui il tepolo Non ha alcun significato Immaginavo Sì Da quegli idea lì Un giorno questo posto divorerà un luce in cielo Chi cammina qui è un'icosa Con fortanti melodie e ossa rosicchiali Dove vado? Qua si dovrebbe essere giusto Ok Devo buttarmi Ah lo puoi salvare Mentre si chiudeva Eccomi che arrivo una Salta Perfetto Ah la traslazione Giusto E eccomi qua Com'è? Una volta raccolto un certo numero di une Nella qui il diario è una sezione di poteri Per scambiarle con altri poteri Le une possono essere raccolte Usate per ottenere nuovi poteri sovranaturali Sì Sempre un po' Il menu Un po' grosso Secondo me Potrebbe essere un po' più minimale Perché Uno magari si potrebbe confondere Comunque Ah costruzione une? Ah ok Quindi non è che C'è tanto da chiedere Va bene E' una barra assolutamente più estesa Grazie Le due ti diciamo Salute più velocemente Che bello Italitano Ma c'è anche questo di sotto? Aspetta Forse Faccio tutto da sopra Non lo so Sta a te Decidere in che modo Usare ciò che ti ho dato Così come ha fatto Chi ti ha preceduto Ah non gli è andata bene quindi Ora ti riporterò Al tuo mondo Ma sappi Che ti osserverò Con estremo interesse Sentiti giudicato Il sogno è finito Usare il cuore Per trovare la una Vicino Allo Potremmo Ma perché? E la madonna È vicinissimo Questo? Uniscono piccoli Minifici sembratorali Trova lì Ascoltando la musica Che emette Normalmente Per attivare Ma senza amuleti Dobbiamo tutto Come no Quante cose devo raccogliere? Sì Butta Va via Sì Siamo tutti d'accordo? Allora devo fare spazio Per Sam Come vuoi Ma non lo userà Perché? Non riesce più a dormire Nei lenti O almeno così dice Troppo tempo passato In marina Tutte le stanze Tanto Quell'ammasso di legna là Una baracca ricavata Da una vecchia barca Cioè Un nobile Ma un miraglio Ebro Dove pesca questa gente? Nessuno sa molto Secondo me sto facendo Il giro sbagliato Perché bisognava accedere Dall'altro lato Credo Non lo so Mi da questa impressione Eh già Salto della metà Ouch Sto arrivando Dove l'hanno messa In acqua Ma dai Sali su Grazie Quindi è profondo Sì Sono qua apposta Sto arrivando E ci siamo Troppo forte Ah c'è pure Lo slow motion Pensate Ok Possiamo andare Cosa? Chi cazzo è? Piragna Come Tarzan proprio Eh ho capito Ma se non dimeli la spada Ah giusto Il teleporter Mi salverò Col teletrasporto Della vita Oppe te Perfetto Ciao Link Ti piace anche a te Disono Ed? Solo chiede una volta All'altro Non mi codo i comandi Quindi fa molto ridere C'era Se non sbaglio E la B Che mi curo Ovviamente Il suo colore Mettiamoci al lavoro Dai Per iniziare So che l'assassinio Non è un bel lavoro Ma talvolta I buoni Devono fare cose cattive Per salvare il mondo Il nostro scopo Restaurare La successione Di sua maestà Insediando Emily Coldwin Sul troppo Per questo Furtivi Agiremo Eliminando Anche questa voce Ce l'ho già sentita Bella bevuta Stanotte Ucciverai l'alto sacerdote Campbell Sta attento Cus Campbell E' protetto dal suo esercito Di fanatici religiosi Puoi riuscirci Solo tu E' questa sono una legenda Eh si Dopo aver eliminato Campbell Prendi il diario Che porta con sé Potrebbe aver scritto Dove è tenuta Emily Se è vero Che la bambina È ancora in vita Dobbiamo salvarla È tutto Per la nostra causa Colpisci duro Vai Tuissimo Una cosa Cosa Campbell ha imprigionato Martin Un ex sacerdote E' uno dei nostri Se riesci a trovarlo Aiutalo come puoi E' un esperto stratega Contribuisce alla nostra causa Sarebbe bello Di averlo all'autizio Eh che ci va Sono stata con un marinaio Per un po' Voleva trovare l'oro Nelle scogliere di Pandissian La sua nave vuota Era la vera Sì ma non devi raccontarmi la tua vita Grazie È uguale a quella di prima Salve Sono Calista E collaboro con Evlock Scusa se mi intrometto Ma è molto importante Stai andando a uccidere L'alto sacerdote Vero? Quell'infame So che non avresti motivo Di ascoltarmi Ma mio zio Jeff Garnau È ancora capitano Della milizia È un bravo uomo Ed è la mia famiglia Tra la servitù Si dice che Campbell Abbia ricevuto Un campione di veleno esotico E io so il perché Mio zio Non si lascia corrompere E Campbell vuole avvelenarlo Potresti proteggerlo Era il tuo lavoro Prima che tu Cambiassi E diventassi un assassino Guarda lì come giudica malissimo Beh in realtà Echnicamente potrei anche curarmi Effettivamente Sono abbastanza basso Mi chiedevo se avessi fatto visita a Piero Prima di avventurarti nel covo dei sacerdoti Ti consiglio di procurarti il miglior equipaggiamento che trovi Lo shop pure Usiamo il cuore di nuovo In che senso? Che devo fare Però in tutto ciò Non c'è Non le opzioni Non mi ricordo Ecco Obiettivi Allora Viaggia verso la prima missione Con Sammo il barcaiolo Il criminal altro sacerdote Trova Emily Che la questa è secondaria Sono in capitano con Sicurati il capitano Soproviva Ok Però che cazzo vuole quello là? Scusa Mi dice di andare a fare una cosa Ma non è vero Non c'è negli obiettivi Non so perché Devo andare allo shop Mica nell'obiettivo Vanno mati a noi così tanto? Mi spiace L'obiettivo sei tu Partiamo o no? Sì Ah ecco Questo è chiaro adesso Ti aspetto Eh aspettami Ma come tante altre Guarda che piove Quindi a quanto pare C'era suggerito Nella non shop Effettivamente Anche se non ce la dà Come obiettivo Ma voi piove Ditemi un po' I trasgressori Saranno condotti Al distretto sommerso Dove ho ancora un sacco Dio ma qua dentro Non riusciamo E Gabinetto Giusto così Ogni ognuno rispondia Sì so dove sono Anche se Sono un attimo Perso Memorie di Lord Pendleton Capitolo 27 Ah ti capì Quando avevo 13 anni L'odiata madrigna Finalmente morì E la pace tornò a Pendleton Hall Bello Ma purtroppo mio padre Cadde in una profonda depressione Va bene Waverly Boy L'entrò nella mia vita In quel momento Così particolare E divenne la protagonista Non ti tenere ricordi Va bene Quindi Chissà se pioverà da voi Ma Voglio affinato Tutte cose Sì ho capito Ma lo shopping Tutto ciò Punto sulla mappa Sarebbe stato gradito Secondo me Comunque Attenzione Cittadini di Dunwood Il distretto Ma che stanchezza oggi Nel mese dei semi Il numero di piaggenti È aumentato Il Lord reggente Ha decretato Che le misure Contro la piaga I cazzi miei In realtà Però Va bene Così Da gode E io Mi sa Che Parto Perché Non vedo Shop Quindi Andiamo Ah perfetto E mi sa che andiamo Dritti verso la barca Perché non c'è niente Così prendiamo tanto tempo Sperando che Il gioco non si aspetti Che mi sia potenziato A parte che poi Lo shop non mi serve Perché faccio la menu Comunque Quindi Se ci fosse Bisogno di potenziarmi Lo faccio almeno Non è che bisogna Di trovare uno shop Per fortuna Quindi non capisco Però Vai basta Andiamo Sei pronto Sì Aspetto ordini Ah già la mascherina Sì Un altro Il capo funzionario religioso Amitante la città Un fedele alleato Di loro delegente Campbell Corotris E Sadove tenuta Nascosta Eminente nel suo ufficio Ruba a studiare E uccidere In quel luogo Impigionato Martin Un alleato dei lealisti Liberalo E gli trova a fuggirsi Una distrettelleria Si poterà anche mettere Non sarà facile Di norma Avresti attraversato Il clave Un distello Buona Buona E poi ci sono I tipi strani Che vivono Ai margini Come Nonna Cencia E una Svitata Ogni volta Che lo dicono È perché È un personaggio Invece Molto utile A te Una scelta Il primo muro di luce E' qua Quindi No perché più che altro C'è È chiaro cosa devo fare Però mi ricordavo Anche che Mi aveva scritto Delle cosine da fare Ok Usa i veicoli Di bolter Per superare Il muro di luce Questo è bello Questo mi è piaciuto Suggerimento Subito Per risolvere Il problema E poi Troveremo Ok Facoltativo Risparmi il capitano Che non è lui No è Campbell Sacellate Campbell Quindi Troveremo Risparmiare il capitano E ovviamente Non la ciencia Che sicuramente È quella che ci aiuterà Tantissimo Perché quando dicono Che è un personaggio Un vecchio pazzo È perché serve tanto Quindi Troviamo questo Bottle Street Per cominciare Iniziamo Il canale Fa già abbastanza schifo Con Y Non bevo la stelta Non mi ricordo Turum Turum Brutto schifo peloso Ehi Cosa c'è? Cosa? L'ultimo si è mosso Mi sembra L'ultimo chi? Sì il piccoletto Impossibile Gli ho controllati Io stesso Torna al lavoro Eh L'ha controllati lui Beh ora non si muove più Ma con chi parla? Dun Dun Questo posto È andato in rovina Dun 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 Bravissimo Che mi ha Ricordato il comando Che già usavo Y Malamente Ok Siamo a posto Questa è nemica Questa è nemica Meno male che Me l'ha fatto capire Perché non si capiva molto Comunque Attenzione Cittadini di Dunwood L'aggesso al John Clavering Boulevard È ristretto agli autorizzati Chiunque Ma come non ha niente questo qua? Cittadini o arresto A discrezione della milizia Dun 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 Attenzione Cittadini di Dunwood Questo è un annuncio speciale Da parte C'è un altro agente Ebbè Così grosso il posto Non ne metti le persone in più Uuuh Merda Ma Muoviti Quindi che fa? Ma aiuto di che? Ma chi cosa? Perché? Ma non è giusto Aspetta che mi devo Ehm Cosa scelgo? Cosa scelgo? Un'arma a caso Facciamo così E poi Zang 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 Non ho capito Perché mi hanno Cioè Ho capito che erano sospettosi Ma Mi hanno proprio visto Ok Grazie Curato al volo E via Ah Vabbè Si doveva usare la trazione Per muovermi facilmente Ma Non lo so D'accordo Cosa facciamo? Ehe Cosa facciamo? Ehe Mi fa piacere Ma No E come Mi ha sti occhiali fastidioso Ehm E lo so E ho capito Ma Cioè Non può passare Meno che Non debba io fare qualcosa Non interagisce Non fa niente No Ehi Che ti devo dire più Casi Che succede laggiù? C'è uno Che non è una persona Possibile Perché è tutto tondo Non capisco Giusto C'è una una lettera Si ho capito No Però adesso Lascialo così Perché non ho ancora visto Che è questa roba? Si Come scivola Aspetta Non so E se Ci passa Però ci proviamo Vediamo un attimo Non credo Perché comunque Ne ha scivolato Questo che è rimasto altino Quindi non credo Ma vediamo No No Ovviamente no Vanno veramente Piccolissimo Lo spazio Già scappati tutti Dalla noia Pensate Da corde Ma niente Solo che volevo passare Per i vicoli Perché mi sa che Questo era il muro Di luce Di cui parlavo Solo che Cosa Vuoi superare Questo modo Eh Si Disattiva Rimuovendo il sabatoio D'olio della balena Avampicati sulle casse A destra E passa dal tetto Trovo un altro Seguendo Stare a destra E mi incontra Due ratte E usa il piccolo Tunnel Ah Ma io c'ho il potere Di Ah giusto Che c'ho il potere Me l'aveva detto Ok Avampicati sulle casse Ma in realtà Lui mi diceva Il tragitto a destra Nel facoltativo Quindi I vicoli di Border Street Per superare Quindi io Direi questo A questo punto Cioè E' un po' strano Questa cosa Perché Mi dici Fai un po' Come cazzo ti pare Queste sono le strade Poi però nel facoltativo Mi scrive cosa devo fare E allora Scusa Capi pazienza Capisco che Uno magari Stimulato alla fantasia Però se vede Che nel facoltativo C'è scritto così Forse Attenzione Cittadini di Tanno Non c'è nessuno L'accesso al John Clovering Boulevard È ristretto agli autorizzati Chiunque è passibile Di perquisizione o arresto A discrezione della milizia Ah no Non si rompe Era fatto il resto Ah ma è la non In realtà Ma è un alleato In realtà Non dovrebbe essere una minaccia Vedo Poi non lo so Si arrampicare Sì che si arrampica Ehi là Com'è? Però in realtà La missione secondaria Mi diceva di risparmiarla Quindi forse Forse non è amichevole Non lo so Oh no Che brutta cosa Spazzatura 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 Tutta quanta La una è lì È ovviamente Ma in realtà Io se l'ammazzo da dietro Non l'ammazzo Va sempre a sinistra Va sempre a sinistra Non mi ascolti mai Ah no no Perfetto Tesoro Sei proprio tu Marito adorato Ah Ma è cieca La mia vista Non è più come un tempo È zero Hai visto i miei uccellini I piccoli Staranno morendo di fame Senza la loro nonna Uccellini Qui Oh santi numi Credo di avere di nuovo Dei pretendenti Ma non sono buoni Come quelli di una volta Li conosco Non sembrano nemmeno Persone educate Nonna Cencia Nonna Cencia Facci entrare Ah beh Se ne andranno Se tengono alla loro vita Che seccatura Tieni la chiave Della porta d'ingresso Pensi tu A quei giovinastri Vero? Porta d'ingresso di cosa? Questa porta d'ingresso? Però io avevo Un cuoricino Un cuoricino Sì Non c'è dubbio Va a centrare Nonna Ah Ah Te capii È meglio Spaccare Quindi Però mi ha chiesto Di occuparmene Teoricamente Eh però Tutte le une Che sono vicine Ma dietro una parete Tutte le volte Andiamo a bere Una dannatissima Ottant'anni a scavare tre rifiuti Avrà trovato qualcosa Perché da nonna Hai qualcosa Nonna 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 Non puoi perché Sei morta Che poeta Cos'è? Ah Uno Perfetto Uno su sette E ci siamo Attento Corvo La chiamano Nonna Cenci E ho capito L'hai detto 3000 volte Ma Un tempo Un imperatore Ha chiesto La sua mano I giovani aristocratici Si sono sfidati A duello Per lei Mamma mia Doveva essere bellissima Lo disse a valutare Il loro valore Uno per uno E lasciarli A bocca asciutta È schizzinosa Ha fatto Un'altra scelta Stai andando Ad affrontare L'alto sacerdote Il capo Di un vasto culto Basato sull'odio Nei miei confronti Mi domando Che cosa farai Chissà Non lo so neanch'io E quindi E questa è una Una È dove entrare indietro Continua a spaccarli Allora Continua a rompere Fa Ci spacchiamo Vai Lei non lancia fiamme No Lancia fiamme Mi sembra un po' scorretto Il coglione Ancora Ah Erano i pretendenti Loro Pensate Quindi dicevamo Coricino Chi sape che ho sospetto Che non riuscirò a pigliare Tutte le una Questo Mappa della zona In tutto ciò Io però Avrei dovuto Passare proprio di qua E la sala da gioco Di smoke street Prestilleria O resta Bottle street Ma perché Scusami Però L'obiettivo È Elimina Il saceratore E Supera E Usare No Non dobbiamo fare Nient'altro Andiamo pure Ogni volta A sto gioco Fa venire dubbi Nel capo Di nuovo L'amiglante della città Un fedele alleato Cambia alle corte Sa dove Tenuto una scosta Mentre Nel suo ufficio Vuole studiare Uccidilo Quello che impigina Trammato Un alleato Dei realisti Ok Ah Le altre Erano super amichevoli Quello mi vede tanto Quello mi vede tanto Come facciamo Eh Ma non si può Essere stealth Mi becca questo qua Cioè Mi ha visto E non ho detto niente Indietro Che? Stammi lontano Ah Allora Forse Ma che cazzo Ma scusa Mi è Ma mi attacchi o no? Ah si? E questo? Ah merda Mangiato piccante Eh Vabbè Così no Eppure Ma come fai a essere stealth In sto gioco Scusa Pass Fartù Mica male Ehm B Sempre che Raccolgo ste robe Ok Quanti passportù L'ho messo Però Nel senso Che forse Adesso Il passportù Serve solo Per Oltre per andare avanti Anche per Tornare indietro E andare A prendere Tutto quello Che mancava Posso supporlo? Suppongo Ah C'è altra gente No Più che altro Poi vicino Eh dai Così Poi magari Ho capito Tutto malissimo Ci si prova Perché qui C'era comunque Una porta bloccata Se fosse un uccellino L'ho capito Che è? Ah i topi Giusto D'accordo Eh ma in realtà Per nascondermi Chiunque entrerà in contatto Con una persona infetta O un piangente Sarà obbligato A trascorrere due giorni In isolamento Se dovessero presentarsi Vediamo se il passportù Funziona Se no Ma non credo Perché non avrà serrature Anche perché avrei detto Di prendere Il controllo Di un topo Tra l'altro Sarebbe una bellissima domanda Come immaginavo No ma mi sa Che il passportù Lo fa inteso Non è per sbloccare Tutto quello Che l'hanno sblocato prima In realtà Stavo andando bene prima Ma in realtà Non so poi Dove mettere Ste batterie Perché è tutto fissato Funziona Una bomba Questa è la porta finale E qua ci sono I cari amici Però se vi girano Così appiccicati Uno lo ammazzo E l'altro no E magari sono così sfigato Che neanche uno lo ammazzo Però Ma come no Ho il passportù Di tutto Di tutto Non è come sfigati Che si butta malamente E li ammazza Quindi Mettiamoci bene Ma guarda Come mi guardano Ma dai Ero girati Non vale così Ciao Matteo Ah non sono più Ah E no però non girare subito Non girare subito Non girare subito Ah guarda come se la piscia Guarda 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 Che cazzo fai Uccidilo Ah è un po' i cani Così Così Ma perché non lo fa subito Che cazzo è Ma Minchia Eh ho capito Ma Che cavolo Dopo un po' di cesuri Morio Cosa Chi Ho sentito una voce Dai che siamo alla giustizia Sei libero Sei contento Ti devo un favore Oh grazie Non ti chiederò della maschera Dopo un trucco simile Nemmeno io vorrei farmi riconoscere Bravo Sai che ti dico Mi sdebiterò No ma il problema Non è che tanto non mi vedevano È che ci metteva un po' A ucciderlo da dietro Non capivo perché Ma ora mi sono ridotto A recuperare oggetti Qua e là In questa città moribonda Se ti serve qualcosa Te la venderò io A buon prezzo Forse un giorno La peste passerà E tutto tornerà normale Fino ad allora Mi toccherà frugare Fra gli scarti Che bello Cioè sembra veramente Che prima deve riconoscere Che è un brigante E poi mi dà le opzioni Perché Le altre volte Succedeva al volo Io pensavo che Tu ti avvicini Al nemico E lo ammazzi subito Prima di conoscerlo E poi decide cosa fare Cioè è un po' strano Perché mi appareva scritto brigante Ma non mi dava l'opzione Non faceva niente Infatti ho tre ore Che premevo R1 Ma niente Dicevamo Cuoricino Con L2 Si attivano delle storie Va bene Puttala via Eh si È tutto un po' strano Cioè giocare a questo gioco Per me io Per adesso l'ho descritto come Un misto tra Bioshock E Plague Tale Non so se E quindi è uscito fuori Una roba del genere Un po' strano Quindi il risultato È che hai un gameplay Che è stealth Come Plague Tale Ma può anche essere Action come Bioshock Proprio quindi La fusione Sta anche nel gameplay Oltre che nella tematica Della peste E nel fattoria Sempre la persona Sembra veramente Fatta apposta Incredibile Qui siamo di qua Va bene Però lassù Mi sembra che O se è chiuso Questo che è alita Va bene E questo Non la possiamo aprire Abbiamo Tre passepartout Credo Perché nell'altra stanza Ce ne erano un casino Però non può aprire Questa porta Va bene E quindi andiamo Che dobbiamo fare Perché rimangono ancora Di simboli Però il passepartout Non funziona Io non so che dire Perché sono tutti messi In angoli Che effettivamente In posti Dove non c'è Da Da usaldi Non c'è proprio Il posto per Non ho idea Vabbè Andiamo avanti Eh sì Ma quindi Tu non l'hai mai giocato Che stanno Perché era anche Gratis su Epic Però forse Non c'è per me Che è vero E Tra l'altro È stato veramente Un peccato Perché non so Cosa sia successo Perché avevano Anche regalato Dishonored 2 Su GOG E me lo son perso Quindi abbiamo Solo il primo Dishonored E il 3 Che in realtà Si può giocare A caso Perché è un gioco a parte Quindi però Mi spiace Ah ok ok È il suo passo Ok però ecco No per caro È che il 2 L'ho proprio mancato Ritorno Raga Ti snoveo Epic Che tanto Ah si Ho già letto Ah basta Intanto Tutte bottiglie vuote Va bene Va bene Ma chi cazzo ha parlato La guardia giurata Cheat Così Così Batte forte il cuore Sì Crediamo Ne ho talmente tanti Comunque che non è quello Il problema Anche perché In realtà poi Di FPS Non saprei cosa giocare Di alto Effettivamente Non ho nient'altro Perché poi invece Venerdì Che mi sono rotto Con Tomb Raider Come avevo già detto Perché basta Infatti Un sacco di gente Ha criticato Questo capitolo Perché non è possibile Tutto bello action All'improvviso diventa puzzle Può anche non piacere Se uno ha giocato A Tomb Raider Perché fosse Super action E quindi Porta lì invece Un po' di platformer Tipo Hue Come cazzo si dice Che è Sumatore di colore E poi Inside E poi Andiamo sui Platform 3D Classici Come Kangaroo C'è un platform Con il kangaroo E ovviamente Anche Yoka lì Sì sì Poi vediamo Tanto Non è che Mi mancano le cose Anche perché Se ti ricordi Avevamo già provato A Darmi il pass Sul pc E ti ricordi Che a me Dava problemi Non si sapevamo Come vai Un altro Passport Ma scusami Allora Se però Mi chiudi Lara Vuol dire Che devo Ah no Ok niente Ok in un modo Nell'altro Ci siamo Kao Kangaroo Ma dai E come Yoka lì E come Banzukazuri Non possono essere Tutti difficili No Cioè io li raggruppo Sempre tutti La stessa famiglia Quindi con Jack and Dexter Eccitante Clank Tutte coppie No Li raggruppo Sempre la stessa Famiglia Ah vedi che serve Qualche volta Il passport Solo quando sono In tanti Mi attacca Ah adesso Ci sarà Davide Quindi Eliminato Sacerdote E non mi è ancora Giornato che sono Oltre il muro di luce Perché credo di essere Entrato O se no perché Ne sono ancora Nella ristilleria Ah Siamo simpatici Ma come Attiva ma Mi esplode in faccia Si esplode in faccia E attiva la gente Ti muovi Salve Aspetta che arrivo Qua il combat system Avrei un po' Da che dire Sul combat system Perché Non è proprio pulito Come Bioshock Perché Abbi pazienza Perché io ti sto attaccando Ho capito che tu mi stai litando Del fuoco Ma io ti sto pugnalando Sul collo Abbi pazienza Ho preso Ho premuto B Te lo giuro Nessuno uccide uno di noi Vabbè Io avevo premuto B Comunque Non so se Però se non becchi il frame giusto Muori Eh Capita Poi bellissimo Che ti dice Senta In una zona ostile Prima erano tutti simpatici Quindi giustamente Li sta avvisando Eh Però la coda Rimane sempre Che poi Anche altezza Cioè anche se sto basso La tocco comunque Si vede E quindi Non so Cioè Che devo fare Devo passare di qua per forza Perché ho usato opposta Il passepartout Vuol dire che c'è una strada alternativa Eh ma tanto mi sgamano Sono lì eh Non è che Andiamo tanto lontano Come faccio ad avvicinarmi Ma scusami con la coda dell'occhio Non mi vedono Sti personaggi Non mi vedono Non mi vedono Sti personaggi 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 Uno in meno Per intanto Eh mo Eh E per quello A me sconvolge Lo stealth Che c'è anche Sta cosa Anche in Bioshock In qualche volta Ovvero che Io molto spesso Mi blocco Perché dico Ma cazzo Ma mi vedono Con la coda dell'occhio A quanto pare I giochi che fanno Perché poi tra l'altro È parte del team Di Bioshock Andato a fare questo gioco Per loro non esiste La coda dell'occhio E per quello che io Non riesco a concepire Lo stealth Perché Cazzo mi vedono E non riesco a giocare Se penso che loro Mi vedono per forza È normale Boh Le solite cose Sì ma per forza Vedi 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 Boh Si un Cazzo È sempre lui il problema Oh e muorici Scusami E io ti ho dato Una sparata addosso Perfetto È ancora vivo Non lo senti Quello tu dentro Fammi vedere Grazie mille Che fatica Ho anche una pistola Nel mezzo Però va bene Non mi droppano neanche Ah Almeno qualcuno Quelle ste monette Non ho ancora visto Uno shop Ah beh Lo shop è nella base Però Ecco Dammi sto cuore E' nel di vicinanza E' sempre raggiungibile Quindi Ah Almeno questo Solo soletto Gioco Ce la facciamo Non ce la facciamo Mi sa che Non ce la facciamo Vediamo Eh mi sa che Se salto da qui Faccio un pochino Di rumore Ah salve Viene lei Così facciamo prima No Si ferma lì Quest'anno pattern Grande Bravo Vacci Vacci Guardalo lì Come lo frego male Eccolo lì Oh mi piacciono queste uccisioni pulite Perfetto Perfetto Pas partù Pas partù Usiamo Così Manca una fiala vuota In che senso Visio Va bene Mina tagliente Ah Poi c'è una tappola Con una mina tagliente Accanto da ogni superficie Poi i miei letti Si attiverà Si Che è qua Segna Rosso Di solito Rosso Lei che puoi colpire Di questi bersagli Poi non so Fiala vuota E' da dove esce Ah Cosa dove esce Pardon Ehm A posto Ah è per fare da me una cura In realtà Però non c'è niente innovativo Non Si viva solo per la cura Perfetto Fiala vuota E allora facciamo Quelle grandi bevute qua Especialmente Era brato l'olio Vale Bottiglia Bottiglia Niente PIEW PIEW Olè Aspetta Da gode Poi Coricino ce l'abbiamo Si Chi cazzo è stato Ma c'è una tappola qui Che è Giusto Meglio a me che a lui Stai Ouch Ok Riuscirò ad aggiungere L'amuleto Sono 30 metri E mi sa che sono bloccato Ma è lo stesso giro di prima Che ti devo dire più Poi me l'ha messo lassù Che cazzo è Assassin's Creed Come c'è arrivo lassù esattamente Comunque L'obiettivo dovrebbe essere qui raggiungibile Ma siamo Siamo simpatici E per Che cazzo La peste Giusto Viviamo nella peste Giusto Date boni Date boni E quindi Ma tu guarda se Scorciatoia Grandissimo Fregati tutti Andate a morire Ah perfetto Ci sono i cadavere Giusto In tutto c'è l'obiettivo 70 metri Di stigliare Ah E' giusto Allora Mi hanno sponotto altri nemici Di solito è giusto Già Vivo Bello Veloce Salve Ah Ma è un cartino Questo mi ha visto Boh Bello È solo questione di tempo Dici Meglio uno che due Dove sei Ah Sì Dici Facciamo il giro tondo Qualcuno è in cerca di botte Se non si gira di scatto Forse ce la facciamo Salve Perfetto Guardalo lì 10 su 10 Voilà Possiamo tornare a noi Quindi In tutto ciò però Ah Poi non c'hanno niente Sono poveri sti nemici Oh Mi dice di tornare qui Eh ma lo scusami Eh ma C'è l'obiettivo Mi diceva di Super il muro di luce Passando per Bottle Street Eh scusami Eh gioco Non vorrei dire Ma io sono passato Bottle Street Non l'abbiamo superato Ho sbaglio Adesso lo possiamo Aprire sto pezzo Salve No Non si può aprire Tutti a dormire Fa che è particolare Sto gioco Tutte le volte Lo ragiono in modo diverso Rispetto al gioco Cioè perché se leggo Passi per Bottle Street E superi Il muro di luce Vado dal Bottle Street E non succede Dico C'è un problema Secondo me Poi boh E non salta però Capisco che Non si lancia tantissimo Però Mi sto spaccando Tra l'altro No Non salta HP No No Salta pochissimo Però in realtà La caduta Non mi fa danno Per fortuna Quindi Evo In tutto ciò Cosa vogliamo fare Di bello gioco Perché mi sta venendo Vengono voglia Di fronteggiare La luce Dall'avanti Perché Tu mi dice Dalla Bottle Street A Bottle Street Non mi fai passare Oltre il muro di luce Quindi Mi sta continuando A indicare Qua Tra la E Sì Certo Lui ovviamente Mi indica Il primo percorso Di default Che sarebbe Quello di andare Ehm Ma in realtà Siamo a Bottle Street Qua Quindi lì Che cazzo c'entra Non lo so Sono superi Il muro di luce Quindi dobbiamo Rimanere qua Peccato che qua Non succede più niente Ah Ah Salve Sta buono Sta buono Non è salvo Molto questo Bottle Street E Dicevi Ah guarda è meglio Una scorciatoia Guarda che bella Che è Attenzione Cittadini di Tanto L'aggesso Al John Clover In Boulevard È ristretto Agli autorizzati Chiunque È passibile Di perquisizione Ma come Non avete niente Ma come Ma io non ci voglio credere Però Ridendo e scherzando L'abbiamo superato Per un tanto Quindi almeno Su questo è stato gentile Gioco Anzi coerente Ma dai Ma dai Non ci voglio credere Ma che palle che sei Fatte sterto Una volta Ok E ce n'è un altro E ce n'è un altro Però non può passare C'è un muro Ci crediamo Ci crediamo Che nel muro Non può passare E come no Come fa a passare C'è un Un muro Ah no A meno che Io Non volevi Vole Vole Venimino Il sacerdote Su poi il secondo Burro di luce Siamo troppo forti E vabbè Però quanti militari Ci dovete mettere Stava andando Tutto bene Mi hai detto Che ha tua sorella Quindi se io Allora mi metto Di qua Poi l'attacco Alle spalle In teoria Una pistola Classica Dunque E ci sono C'è un altro Ce n'è un altro Che cosa Ma che A me Ah no Ci sono i topi E mi aiutano Perché Ok Non me l'aspettavo Non si può Ma posso spiare Jumpscare in arrivo Ci starebbe Oh C'è una qualcosa No No E no Quindi devo andare Però di là Vediamo quindi Di qua L'udencato Trichetto Racket E non la ciencia La conosciamo Il gioco Ti dice But Talmente Che non la conosci Però Da dei bomi Eh È una protopsionale Ma vogliamo farla Come potrei fare Stealth Che sono In questa situazione Tanto appena Mi vicino Quelli due Danno l'allarme E giustamente Mi attaccano In tre Anche se arrivo là Non Poi tutte le volte Io mi fido Che questi qui Abbiano delle ricompense Poi sono vuoti dentro Piantala ragazzino Non chiamarmi ragazzino Credi di potermi imbrogliare Beh se però litigano Ah E qui la cosa cambia E qui la cosa cambia Bravi 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 Così anziché essere 3 contro 1 Siamo magari 1 contro 1 Facciamo 2 contro 1 Cosa Ce l'ho fatta Non so come Salve No No Cazzo No Non ti ci farai A soffiarmi In fuoco Non sei un drago E siamo a posto Beh Sì tutto risolto Per il meglio Ah salve Sì Non hanno niente Tutto lì È una zona così opzionale Niente Non mi fido Non mi fido tanto Di questo Po' di luce Vediamo se I topi Sono gentili Così andiamo Direttamente Alla Grisquare Diretti Tutto a posto Tutto a posto Sì Ok Io direi che per oggi Possa essere tutto Abbiamo salvato Li salviamo senza problemi E niente Ringrazio come sto Per la visione E Ciao Da Mr. Wall Ciao 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 Grazie a tutti